Perché Keyforge è stato messo in pausa? Quali sono le cause che lo hanno portato allo stop? E in futuro lo rivedremo tornare ai vecchi fasti di una volta? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Oramai è noto a tutti che il nostro amato gioco dei mazzi unici al mondo sia in pausa, in attesa di sviluppi che, a quanto pare, faticano ad arrivare. Dopo l'annuncio da parte della FFG, la motivazione più plausibile che è stata data dalla casa madre, ovvero la rottura dell'algoritmo che genera i deck, ha suscitato perplessità e malcontento in molti forgiatori che hanno addirittura lasciato il gioco tornando al classico Magic Pokémon Yu-Gi-Oh! o virando verso nuove avventure con l'ascesa di Flash and Blood che sta prendendo sempre più piede posizionandosi come quarta miglior scelta nel mondo dei TCG. Ma le motivazioni di questo hiatus potrebbero andare ben oltre il semplice guasto di un meccanismo. Se seguite il gruppo Facebook di Keyforge sicuramente avrete visto, amatori del codice binario, ripristinare in parte l'algoritmo impiegandoci relativamente poco tempo. E in questo video andremo ad esaminare i diversi ed ipotetici aspetti che, purtroppo, hanno messo il nostro unique deck game in freezer, criogenizzando ogni singolo aspetto di questo magnifico gioco. Prima di iniziare però, so che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non siete ancora iscritti. Pensate che se tutti voi vi iscriveste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 iscritti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Dateci una mano! Inoltre vi invito ad attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Ed ora scopriamo assieme le due motivazioni che hanno spinto la FFG a pensare di mettere il progetto Keyforge in pausa. Andiamo a dargli un'occhiata! Il lato economico C'è poco da dire. La fantasy è una consociata della Asmodè, la casa francese conosciuta per la pubblicazione di un numero considerevole di titoli che hanno appassionato milioni di giocatori in tutto il mondo. Ovviamente, essendo delle società, va bene il divertimento e la passione, ma il fattore economico la farà sempre da padrone. Un prodotto vende? Si manderà avanti. Non venderà? Si ripenserà al suo futuro cercando di correggere dove possibile o addirittura optare per l'eventuale chiusura. A tal proposito, sul profilo Twitter di Arkon Arcana, vi lascerò come sempre il link in descrizione, è stato pubblicato un grafico che denota come andando avanti nel tempo, ogni espansione ha sempre venduto meno, volendo ringraziare a tal proposito Don Quixote Matt ed Americo Vespucci per avermi fatto notare il diagramma. E ciò non ha rappresentato proprio un buon segnale per il gioco, dato che se non fosse stato per il richiamo degli arconti, Key Forge non avrebbe mai raggiunto gli oltre 2 milioni e mezzo di mazzi venduti nel giro di 4 anni. E qui subentra la seconda fase dello stop. 2 milioni e mezzo circa in 4 anni sono la bellezza di 625 mila unici venduti all'anno. Obiettivamente parlando, sono numeri bassi. In più, giocando dalla sua nascita, e qui mi inimicherò circa il 127% degli utenti che seguono il canale, la creazione del valore SaaS non è stato proprio un toccasana per l'intero ecosistema creato da Garfield. Ciò perché? Perché molti mazzi non hanno neanche visto la luce del sole al di fuori del cellofan, e ciò ha portato diversi utenti a preferire il classico deck building piuttosto che aprire 50-100 mazzi senza trovare l'ombra di un deck che apparentemente potesse risultare competitivo. E ma Arconte, ma che dici? Il SaaS è un qualcosa di straordinario per il gioco, perché crea delle categorie dove ogni forgiatore può competere. Sì, ma non è qualcosa di ufficiale, non ancora perlomeno. I tornei SaaS Cup, che ripeto, Dio benedica chi li ha inventati, sono stati una corsa ai ripari per evitare che tutti gli unici sbustati venissero scartati a priori. Quindi, obiettivamente, ragioniamo assieme. Sono stati una soluzione ad un problema che è nato proprio a causa dei valori SaaS. E qui so che diversi di voi non si troveranno d'accordo con le mie parole, e posso comprendervi appieno, ma agli inizi il bello del gioco era proprio il gusto di giocare un mazzo per capirne il meccanismo, scoprirne le sinergie e strutturarne sempre di nuove. Quante volte avete sentito dire da Carmelo, ad esempio, dovete giocare l'unico per capire come funziona? Sicuramente i veterani della forgia, se non lo stesso Carmelo, potranno confermarlo. Quindi, tornando a noi senza uscire ulteriormente dal tema, le vendite non hanno rispettato appieno le previsioni fatte dalla casa madre, che magari si aspettava un boom di acquisti, come dovrebbe essere, ad ogni espansione che avrebbe dovuto incrementare i numeri. Cosa che invece non è successa. Al contrario, ad ogni set le vendite sono calate. E qui qualcuno, a chiani alti, avrà pensato Un secondo, la situazione non mi piace proprio per niente. Qualcosa non funziona. Notate bene, se fissiamo un punto nella parte più alta del grafico ed un secondo punto nella parte più bassa e tiriamo una retta, sarà più che visibile una tendenza ribassista. E così magari, vuoi la casualità, vuoi altro che non conosciamo, è uscito il discorso dell'algoritmo rotto e ci hanno propinato questa scusa nella speranza che la bevessimo. Cosa che non è stata proprio ben presa da tutti, ma rimane il fatto che è l'unica certezza che abbiamo al momento, assieme alla prima ed unica carta del sesto set e alla confezione del kit per due giocatori che ne ritrae la copertina ufficiale. Ed è proprio in questi casi che mi viene in mente il what if che potrebbe in realtà cambiare il futuro del gioco, ovvero la seconda motivazione che è l'algoritmo è davvero rotto. Lo so, non è un what if. Infatti la probabilità concreta che invece ci abbiano detto la verità in realtà c'è. Non so francamente cosa stia accadendo, credo che solamente chi ci stia lavorando attivamente lo sappia, ma è vincolato da una sorta di segreto aziendale che, se disgraziatamente parli, servizi segreti a casa, esci dall'uscio e poi era proprio un bravo ragazzo, salutava sempre. A parte gli scherzi, se l'algoritmo dovesse essere davvero rotto, non ci resterà altro da fare che aspettare che lo aggiustino. E a tal proposito, notizia fresca, si è fatto sentire il buon Richard Garfield che, con un commento sotto il post intitolato Keyforge, Call of the Archon Reviews, My Biggest Problem with Keyforge, sul blog Board Game Geek, link in descrizione, si è espresso annunciando che, parole sue riadattate in italiano, non posso promettere o rivelare nulla, ma posso dire che il lavoro è stato fatto e ci sono un certo numero di persone realmente intenzionate a riaverlo indietro. Keyforge, in questo caso, è il soggetto, quindi incrociamo le dita. E incrociamole, allora, queste dita. Cosa ci costa? Bisognerà tenere a mente comunque un fattore ben incisivo che potrà, o meno, pesare sulle sorti del gioco. Sto parlando del tempo. Più giorni passeranno, infatti, e più gente si allontanerà. È una conseguenza naturale tornando a quei porti sicuri, l'ho detto poco fa, che andranno a rappresentare una fornace di novità che al momento Keyforge non è. Il gioco è stop, fermo, immobile, ma Arconte ci sono ancora le vecchie espansioni da giocare. A tal proposito, vorrei analizzare assieme a voi questo aspetto. Il richiamo degli Arconti sta andando a ruba per via del suo costo estremamente ridotto. L'era dell'ascensione è il fratello brutto del primo che nessuno vuole e viene ancora bollato come il set più fallimentare nella storia del gioco, non considerando invece che quando un mazzo forte esce dalle sue fila è forte per davvero e non la manda a raccontare ai suoi cugini di prima o delle espansioni successive. Mondi in collisione ha introdotto due casate nuove, Sauriani e Federazione, al posto di Brobnar e Sanctum, una premium che ve la raccomando solo se siete collezionisti e dato il costo, lo vedremo fra poco, anche se non lo siete, l'aggiunta di un paio di dinamiche di gioco e nient'altro di più. In effetti, a dirla tutta, è stato l'unico set che ha in realtà inserito delle novità anche a livello di prodotti commercializzati che puntualmente hanno fatto flop. Vedasi la stessa premium box che al tempo si vendeva a 40 euro l'una, invece adesso si può trovare anche attorno ai 15 euro, al pari di un mazzo deluxe per intenderci. Mutazione di massa che è davvero stata una rivelazione, a parte gli stessi mazzi deluxe che sono praticamente a tiratura limitata, non si trova più in mercato essendo uscita fuori produzione e ondata oscura, è stata oscura non solo nel nome ma anche nelle vendite, grafico parla. E secondiamo il tutto con l'alone minaccioso dell'esaurimento scorte che si avvicina ogni giorno di più dato che se l'algoritmo è rotto chi li stampa più i mazzi qui in casa FFG? Abbiamo il mix perfetto che vede questo bellissimo gioco avere una data di scadenza. Una volta acquistati tutti gli unici non se ne troveranno più e quindi come si farà a mandare avanti il progetto a livello internazionale? Per carità la volontà ferrea dell'intera community ha già fatto intendere che Keyforge non rimarrà orfano, tutt'altro ma una mano concreta da parte della FFG di sicuro non guasterebbe. Quindi come dice Garfield incrociamo le dita e auguriamoci notizie fresche al più presto sia per il ritorno in live che per la piattaforma online del gioco. Cosa dovremo aspettarci? A dire il vero non ne ho idea. Ho solo congetture ipotetiche in mente che non hanno un filo di fondamenta perché non esistono notizie su uno sviluppo concreto del gioco atto a sistemare le cose se non voci di corridoio che fanno quelle pronunciate dallo stesso Garfield le più vicine ad un comunicato ufficiale. Ma non mi aspetterei novità a stretto giro di solito per riorganizzare le fila diversi mesi passeranno se non un anno o forse più ma non desidero altro che essere smentito in merito. Quindi auguriamoci che questa attesa non si prolunghi ogni oltre aspettativa e attendiamo notizie su eventuali sviluppi e magari perché no un ritorno in grande stile di Keyforge sul mercato da fare invidia ai colossi del settore. E voi cosa ne pensate di tutto ciò che sta accadendo al nostro amato gioco di mazzi unici al mondo? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.